Io sono un sostenitore della formazione continua e anche a tratti obbligatoria sia della nostra forza lavoro sia di coloro che in un determinato periodo della propria vita ad esempio non lavorano. I fondi sono l'anello di congiunzione fra queste due realtà. Nel prossimo futuro avremo posti di lavoro sempre più formati, sempre più schillati come si suol dire e quindi anche grazie a politiche espansive in termini economici. A favore dei fondi serve che diventino effettivamente una gamba molto importante sotto questo punto di vista. Oggi ci sono circa l'82% di posizioni lavorative aperte rispetto per ogni candidato rispetto al 2020. Questo gap, questa forbice che ancora non si riesce colmare è evidentemente non attualizzabile proprio perché manca un profilo formativo. I fondi professionali sotto questo punto di vista possono svolgere un ruolo assolutamente importante e virtuoso.